Ciao Alice, siamo molto contenti che tu sia qui. Abbiamo visto che è uscito da poco un tuo nuovo album, come si chiama? L'album si chiama L'amore non è niente, è uscito a giugno. Infatti ho visto un bellissimo single, Giorni d'Agosto, giusto? Esatto, prima L'amore non è niente e poi Giorni d'Agosto. Bellissimo, di che cosa parla? Giorni d'Agosto è una canzone fresca, è una canzone proprio da agosto appunto, quindi parla di un amore che è finito, però che diciamo può anche, ci sono tante possibilità che ricominci. E oggi perché sei qui? Oggi sono qua perché mi piace molto l'evento, perché amo gli animali e poi perché ho pensato di poter unire la mia passione con questa bella altra passione che ho che è quella per gli animali. Benissimo, tu hai degli animali? Sì sì sì, io ho due gatti in casa, li adoro, poi sempre nel mio condominio ci sono altri parenti che hanno cani, gatti e quindi siamo circondati di animali e siamo fieri di esserlo. Benissimo, quindi hai voluto dare anche tu il tuo contributo? Certo. Sei qui in veste di emergente? Sì, però sappiamo che il tuo nome sta girando moltissimo nell'ambiente, quindi siamo molto contenti per te, speriamo, ti facciamo un nostro grande in bocca al lupo. Crepi. Crepi davvero e vi ringrazio tanto per questa bellissima occasione. Grazie a te. Grazie. Ciao Alice.